La questione del liceo sportivo assegnato a Falconara Marittima e non a Iesi continua a far discutere. Nella mattinata di ieri, giovedì 17 gennaio, il presidente del gruppo PD in consiglio regionale, Marco Ricci, ha risposto alle richieste del sindaco di Iesi, Massimo Bacci, che dopo la notizia dell'assegnazione a Falconara del liceo sportivo aveva invitato il PD locale a sostenere la candidatura in regione e a chiedere ai vertici provinciali e regionali spiegazioni sulla continua disattenzione che gli organismi sovraccomunali mostrano nei confronti di Iesi e della Vallesina. Le decisioni assunte ieri dall'assemblea legislativa sull'individuazione degli istituti per l'avvio della sperimentazione dei licei sportivi sono frutto di un'attenta valutazione di una sintesi che il Partito Democratico, attraverso i suoi consiglieri regionali e l'assessore competente, ha saputo realizzare, ha scritto Marco Ricci in una nota. Grazie anche al nostro impegno, il Consiglio regionale, con voto unanime, ha deciso che terminata la fase sperimentale che durerà un anno, dal successivo anno scolastico 2014-2015 anche Iesi avrà il suo liceo sportivo a concluso. Decisione che non convince il sindaco Bacci, che in serata ha voluto dire la sua, lanciando in una lettera aperta all'assessore regionale di istruzione Marco Lucchetti un invito. Ci vediamo il 15 settembre 2014 a Iesi, al liceo scientifico Leonardo da Vinci, ha scritto se, come lei ritiene, quel liceo avrà un indirizzo sportivo, le chiederò pubblicamente scusa se, come io e gran parte della città di Iesi temiamo che l'indirizzo sportivo non ci sarà perché non ci sono quelle condizioni oggettive per farlo, che si comprendono benissimo fin d'ora sarà lei a chiedere scusa, non a me ovviamente, ma ad una città che si è sentita ancora una volta presa in giro dalle scelte regionali. Grazie. Grazie.